Questo è il video numero 11 del corso di doratura realizzato dalla Rinaldin. Il corso completo è costituito da 11 video più un video introduttivo. Per ottenere dei fregi dorati in rilievo, bisogna dapprima creare il rilievo utilizzando la cosiddetta missione a rilievo per doratura. La missione a rilievo va applicata sulla superficie con il sac a poche che si usa per fare le decorazioni in cucina. Dopo che la missione si è solidificata, potete applicare la foglia. Va bene sia la foglia oro zecchino e argento vero che la foglia imitazione. Se usate la foglia oro imitazione, dovrete poi passare anche una vernice protettiva per evitare l'ossidazione. Una vernice protettiva va applicata anche sopra le foglie di argento vero. Questa è la vernice protettiva all'alcol fornita dalla Rinaldin. Ora sto applicando la foglia oro imitazione. Per questa decorazione invece voglio usare una foglia di oro zecchino. si potrebbe usare anche la foglia di oro zecchino a decalco o trasferibile. Qui invece uso una foglia di argento vero. Bisogna ricordarsi che l'argento tende a ossidarsi e quindi va protetto con una vernice. Alla fine spazzolo via tutti i frammenti di foglia in eccesso. Troverete tutti i prodotti per doratura nel sito www.rinaldin.it con inscrizione